forse una delle migliori inter della stagione sembrata completamente diversa trasformata soprattutto nell'approccio anche poi forse di conseguenza in tutto lo sviluppo del gioco non lo so ripeto c'è la stessa cosa che mi ha detto adesso sky ma non mi trova assolutamente d'accordo se consideriamo il risultato sì il miglior risultato della stagione perché abbiamo fatto tre gol non ne abbiamo subiti secondo me la prestazione abbiamo fatto le prestazioni sicuramente anche migliori di questa magari il risultato non ci ha sorriso però è inevitabile che voi diate valenza risultato finale e il risultato finale poi condizione giudizi oggi sicuramente abbiamo fatto una buona partita ma altre volte ne abbiamo fatte secondo me a livello qualitativo ancora migliori hai detto qualcosa di forte alla squadra dopo il Real Madrid no assolutamente li ho ringraziati per l'impegno cioè con il Real Madrid dopo quattro minuti abbiamo subito un rigore al trentesimo eravamo in dieci giocavi contro il Real Madrid quindi se se non capiamo questo tipo di situazioni o facciamo valutazioni totalmente astruse ripeto noi dobbiamo essere bravi a essere molto io soprattutto a essere molto bravo a considerare le prestazioni l'impegno che ci mettono i ragazzi quindi con il Real Madrid siamo rimasti in dieci i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano hanno fatto lo stesso altre volte quando c'era da intervenire sono intervenuto ma sicuramente dopo il Real Madrid non sono assolutamente intervenuti anzi li ho ringraziati per l'impegno Champions League c'è ancora un po' di speranza Antonio di andare avanti in Champions League ci sono due partite da giocare quindi come abbiamo fatto prima nelle precedenti partite daremo tutto noi stessi daremo faremo il massimo ma che 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 ci è consentito quindi speriamo anche di essere un po fortunati con gli arbitri con le situazioni di var visto che anche quest'anno nel girone non esistiamo siamo stati proprio fortunatissimi speriamo di recuperare qualche calciatore perché tanti stanno giocando sempre tra nazionali e partite giochiamo ogni due giorni e mezzo quindi sicuramente daremo battaglia daremo battaglia faremo di tutto per per cercare di di continuare avere delle delle speranze poi ci sarà il campo c'era il campo che dirà se avremmo meritato o meno sentire steven zang dire antonio è l'uomo che abbiamo scelto per riportare l'inter a vincere alle qualità umane professionali per farlo il nostro leader quanto ti ha fatto piacere in questo momento ma ma sicuramente il rapporto con la proprietà il rapporto col presidente è un ottimo rapporto ripeto io mi sono messo totalmente a disposizione per cercare di iniziare un percorso con con questo club per per cercare di di tornare riportare il club dove merita e dove è stato 10 anni 10 anni fa l'unica cosa mi sento dire che io non sono io sono una delle situazioni delle soluzioni nel senso che io posso essere una delle soluzioni insieme alle due tre quattro soluzioni che servono per riportare all'inter ma non posso essere la soluzione l'unica soluzione per l'inter perché non sono solo non sono l'inter e c'è bisogno di tutti quanti quindi però ripeto grande grande piacere della della stima ricambiata nei confronti del presidente della 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 proprietà però come ho detto non posso essere la soluzione l'unica soluzione ci sono io posso essere una delle delle soluzioni poi ci stanno altre facciamo l'ultimo di gazzetta si chiedeva nei colleghi della gazzetta se vuoi commentare lo striscione che apparsa nelle ultime ore insomma ha rivolto alla squadra quale striscione quello in cui si invitano i giocatori a tirare fuori gli attributi onde evitare insomma un sostegno forte diciamo da parte loro ma sinceramente non non ero a conoscenza di questo di questo striscione io quello che posso dire è che da parte da parte di noi tutti c'è c'è la voglia c'è la la determinazione di di cercare di dare sempre il massimo sempre il massimo cercare di di rendere orgogliosi i nostri i nostri tifosi a volte ci riusciamo di più altri riusciamo di meno però una cosa deve essere chiara che ci mettiamo sempre il 110 per cento questo lo sappiamo giocare nell'inter e giocare per l'inter non è semplice perché mi rendo conto che comunque c'è tanta negatività intorno alla squadra a prescindere perché penso che forse l'inter faccia notizie faccia faccia vendere in tutto questo noi dobbiamo essere bravi anche ad isolarci ad accettare determinate pressioni però come come ho detto prima dobbiamo sempre essere tutti tutti ci devono essere diverse soluzioni per portare l'inter poi al dove merita non ci deve essere solo la soluzione che può essere l'allenatore c'è tutto noi dobbiamo essere bravi con il calciatore mi dispiace quando al di là di quello che si possa dire su di me mi dispiace quando chiaramente vengono attaccati i calciatori sotto tanti punti di vista però dobbiamo essere forti e creare ancora di più una corteccia forte tra di noi sperando ripeto sempre che tutti quanti quando il mare in tempesta siano su quella su quella barca ecco grazie grazie grazie